La Valenza è fondamentale perché si riqualifica un'area di Trieste che era degradata, non accessibile. Quindi noi parleremo del progetto, dell'involcro in questo caso, tutto quello che poi sarà il contenuto di cui parleranno gli altri e l'importanza che abbiamo messo in questo progetto per far sì che sia relazionato al sito, che quindi tenga a conto tutte quelle che sono le preesistenze importanti perché ci sono alcuni edifici vincolati, la lanterna ma soprattutto il mare, quindi il rapporto fra Trieste e il nuovo edificio che abbiamo cercato di plasmare proprio sul sito. Sì questo digital experience center ma anche degli spazi pubblici molto importanti, fruibili, questa piazza sopraelevata, questi giardini, questo accesso dalla città, insomma un po' tutto il progetto è diventato parte del contesto.